La Carrarese è una squadra che fa dell'aggressività e dell'attacco alla palla la sua dote migliore. Sono capaci di venirci a pressare alti, di fare una grande azione di pressing a centrocampo. È una squadra molto organizzata in fase difensiva, quindi è chiaro che saremmo stimolati a una partita un po' diversa da quella fatta con la SPAL. Noi sappiamo queste cose qui e quindi dobbiamo essere bravi ad ovviare alle loro qualità. È chiaro che poi spero che ci sia sempre la prima volta, come sempre accade. Ma lì c'è Belcastro che forse è quello che giocando tra le linee dobbiamo essere molto bravi ad accorciare. Poi ci hanno due attaccanti come Cellini e Merini che sono giocatori che possono trovare la giocata e metterci in difficoltà, come d'altronde è sempre in questo campionato. Sto lavorando senza attaccanti. Ieri ho fatto la partitella con la Beretti e ho usato due ragazzi della Beretta, tra cui anche Bravini. Però noi quest'anno abbiamo lavorato molto sui movimenti degli attaccanti, sul lavoro degli attaccanti, soprattutto per la fase di sviluppo. Adesso ci sono diverse settimane che purtroppo non stiamo più toccando e quindi è chiaro che un pochettino questi infortuni ci stanno un po' condizionando. È stato fermo anche Bucchi questa settimana perché altro problema al piede anche lui, un pestone preso anche lui. La Padula sta proseguendo il lavoro suo individuale, come lo stesso Donnarumma. Vedremo molto probabilmente qualcuno sarà in campo, anzi quasi sicuramente saranno in campo questi qua, però dovranno stringere un po' i denti sui problemi che loro hanno.